Empatizzo anche con te quando dici che la tua preparazione invernale è stata praticamente carente negli ultimi anni, perché, cioè, pensa a me che mi sono dovuto operare per potermi allenare. Adesso posso dirlo da due mesi che mi alleno, raga, è un miracolo, anche se faccio 40 km a settimana, degno di un velocista, comunque riesco ad allenarmi. E il fatto di riuscire ad avere un anno intero senza incrociando le dita robe che ti fermino o che ti rallentino, fa veramente bene. Cioè, se tu vai a vedere gli atleti che sono riusciti a migliorare di più, sono anche quelli che si infortunano di meno. Esatto. Tu prendi quelli a livello giovanile e tu dici, ah, questo mi sembra più o meno a un'altra stessa livello di quest'altro, poi vai a vedere la storia, quegli infortuni e indovina chi riesce ad andare più avanti, quello che si infortuna di meno. Sì, infatti, guarda, ne avevo chiacchierato con Galvan qualche anno fa, mi ricordo, non solo con Galvan, ma anche con qualche altro ragazzo, insomma, che discutevamo di ciò anche sulle prestazioni che ha avuto Davide negli anni, che molti dell'atletica, anche al di fuori, dicevano eh, Galvan aveva un talento enorme, ma purtroppo era fatto di vetro, anche perché è sempre stato un ragazzo che si infortunava praticamente due volte all'anno. Mi ricordo nel 2019 che fece 45-48, non 45-58, una cosa del genere, campionati italiani, con praticamente un mese e mezzo di preparazione. Cioè, lui era devastante come atleta, ma il fisico non l'ha mai sorretto. Mentre Davide, che aveva un talento comunque più o meno alla pari con quello di Matteo, immagino, insomma, non so chi ne avesse di più, ne avesse di meno, lui ha fatto degli anni senza mai farsi male e quindi ha fatto degli anni in progressione fino ad arrivare poi a quel bellissimo 44-77, 44-85, corso a Doha, cioè lui ha sempre avuto una costanza importante, oltre che a livello fisico, anche poi nelle manifestazioni internazionali più importanti, lui c'è sempre stato, infatti è uno degli atleti, a mio avviso, migliori che ci sono stati in questi anni qua. E la sua fortuna è stata, almeno non negli ultimi due anni, che andava un po' più in là con l'età e così via, ha iniziato ad avere qualche problemino, qualche acciacco, ma prima, insomma, era abbastanza un Ironman. Certamente, per chiusare sugli infortuni, senza scomodare casi come quello di Galvan, che purtroppo sì, aveva veramente questa predisposizione purtroppo a farsi male, però penso che nella discussione, sai, annosa del talento, quanto è genetica, quanto è altri fattori, quanto è effettivamente l'impenno dell'atleta, l'infortunarsi è forse più dovuto al caso che al vero e proprio predisposizione, destino, chiamalo come ti pare, no? Sì, allora, diciamo che anche questa cosa qua l'avevo un pochino pensata, che comunque ogni persona ha il suo talento e le sue capacità, ovviamente chi ne ha di più arriva più in alto, cioè banalità, però ci sono due tipi di persone con due tipi di fisici diversi. Ci sono quelli che sono talentuosi e che sarebbero potuti arrivare magari a livelli altissimi ma non ci sono arrivati per episodi casuali del tipo uno ha fatto magari un incidente in macchina e non è riuscito ad arrivare dove doveva arrivare, uno ha avuto un problema che è inciampato in una buca e si è fatto male, si è preso una storta, ha perso due stagioni magari, insomma. C'è chi ha quel talento lì, quindi semplicemente fermato dalla sfortuna e ci sono invece altre persone che hanno un talento diverso, nel senso che è un talento, sembra cattivo ma immaginario, nel senso che se uno si dice che ha le capacità per poter correre magari 9,5 nei 100, 44 nei 400 e così via, ma poi non ci arriva non per eventi casuali ma per continui magari infortuni durante l'allenamento è perché il talento magari ci sarebbe ma non ha il fisico adatto per poter arrivare a sfociare poi in quello che tutti pensano, insomma, perché il talento non è semplicemente un quello potrebbe fare quella cosa ma poi arrivare a farla attraverso non solo appunto mentalità ma anche la propria fisicità. Non so se mi sono spiegato bene. No, no, ti sei spiegato molto bene. Il talento era quello della Ferrari fino allo scorso anno, adesso è più stabile e riesce anche a vincere. Cioè la macchina deve essere veloce ma deve essere in grado di resistere ai carichi. Sono due aspetti che non possono essere scissi. Esatto. Sì, io però ero più dalla parte del talento e dell'infortunio casuale, diciamo, quello che veramente è sfiga pura o comunque sono delle cose che non sono scritte nei geni o nella storia dell'atleta fino a quel momento e allora in quel caso tu hai veramente un atleta, la cucchierella può svoltare in positivo o negativo veramente per fortuna o per sfortuna. Cioè c'è un video di un canale YouTube americano che fa divulgazione scientifica chiamato Veritasium dove salta fuori che se chiedi a una persona di successo quanto sia farina del suo sacco, l'essere arrivato così in alto, questa persona sovrastimerà sempre i meriti rispetto al caso, anche se il caso ha una funzione preponderante. E c'era anche un altro video che è uscito fuori dopo le Olimpiadi di Entropy for Life che dice che secondo lui la genetica è molto più importante di quanto riteniamo per far andare avanti i campioni, però ti posso dire che c'è un atleta fortissimo, se veramente gli si ingrana tutto male, può diventare l'ombra di se stesso. Quindi altro che genetica che determina i campioni, ovviamente bisogna avere delle soglie da superare, delle threshold, ma lo stesso atleta con gli stessi geni, la stessa identica storia, può essere in una stagione il migliore del mondo e nell'altra claudicante, zoppicante, incapace di rendere. Quindi insomma, discorso ampissimo e ti ho fatto questa chiosa soltanto perché ti ho visto estremamente interessato e sembra che veramente, insomma, c'è un filosofo dietro questo quattrocentista. No, vabbè, un filosofo no, diciamo che sono semplicemente un atleta, una persona che pensa molto e comunque a riguardo sulla prima parte del discorso che facevi, quella che una persona che arriverà al successo tenderà a sovrastimare le proprie abilità, concordo ed è una cosa che è oggettivamente vera, ho letto molti libri a riguardo, è molto più sull'economia e magari la psicologia comportamentale sulle persone, sempre a riguardo l'economia, però mi ricordo un pezzo di un libro, mi ricordo se era Pensieri, Lenti, Veloci, Daniel Kahneman, che consiglio a chiunque che è un libro fantastico. Oh, l'uomo-cane, purtroppo è morto recentemente. Eh sì, è morto due anni fa, mi pare, o Il Cigno Nero, insomma, da qualche parte, se noi prendessimo ad esempio il caso di, se prendessimo tutta la popolazione mondiale e facessimo una competizione di lancio della moneta in cui si fa uno contro uno e se esce testa o croce vince uno, vince l'altro e si va avanti così a turno e comunque un vincitore uscirebbe e chiunque entrerebbe nella top ten o chi vincerebbe una volta vinto magari scriverebbe un libro dicendo ah io sono arrivato a fare questo per questo motivo qua, questo, quell'altro, mentre in quel caso lì è totalmente detrato dalla fortuna, non è che c'è una spiegazione sotto, però chiunque arriva dice la motivazione è che, mi sono svegliato alle 6 del mattino, la motivazione è che c'era quella persona lì ad aiutarmi, la motivo è che ho più talento degli altri, quando in realtà molti fattori sono casuali e magari molte persone intraprendono la stessa strada, fanno cose simili, hanno talenti simili e poi magari uno ce la fa e gli altri 10 no, semplicemente perché c'è stato quel piccolo imprevisto che ha fatto in modo che quello non ce la facesse, quindi io consiglio sempre a chiunque quando voglia intraprendere una strada di guardare chi ce l'ha fatta, ma poi l'abito cucirsi su se stesso, non prendere gli abiti degli altri e cercare di infilarseli anche forzatamente. Sagge parole.